Grazie a tutti. Abbiamo visto che il programma è molto articolato, secondo lei qual è il punto principale di questo programma da sviluppare immediatamente? La coalizione si chiama Affare Città, cioè tornare a una visione strategica per la città di Fano, darsi dei progetti qualificati in grado di captare finanziamenti sia ministeriali che comunitari, una situazione che oggi purtroppo è assente da parte di questa amministrazione, cercare di riportare Fano al ruolo che le spetta come terza città delle marche. C'è moltissimo da fare, quindi è molto difficile sintetizzare in poche battute il programma, però diciamo che noi guardiamo la qualità dell'ambiente che va declinata anche con le caratteristiche turistiche di questa città. Oggi in un momento di grande delocalizzazione del manifatturiero e dell'industria, che sicuramente vanno recuperate, ma è un trend in atto in Europa, noi dobbiamo appoggiare assolutamente sulle qualità dell'ambiente, sull'offerta turistica, sulla bellezza della città che va riscoperta e valorizzata. C'è molta attesa per quanto riguarda il lavoro e per quanto riguarda la mobilità cittadina, ci può dire qualcosa in merito? Sul lavoro un'amministrazione pubblica non può che agevolare e snellire le procedure per gli artigiani e gli imprenditori, soprattutto combattendo la burocrazia parassitaria, quindi dandosi dei regolamenti che non ostacolino ma che siano vicini agli imprenditori. Per quanto riguarda poi, dicevamo, oltre al lavoro mi chiedeva? La mobilità. La mobilità è un grande tema perché abbiamo visto che esperimenti improvvisati e costosi hanno avuto una brutta riuscita, io cito solo Vianolfi che è diventata una specie di tangenziale in pieno centro storico, vanno affidati progetti a chi se ne intende, investendo un po' di denaro ma senza rischi, perché la mobilità diventa la qualità della vita anche per i cittadini, soprattutto per i cittadini ma anche per chi viene a Fano. Non dimentichiamo che abbiamo il dovere entro il 2030 di abbattere le polveri sottili e le emissioni per l'Europa e sappiamo che la Volkswagen sta investendo milioni di euro in un progetto complessivo di rivoluzionamento dei sistemi di mobilità, dobbiamo esserci anche noi dai comuni e dal Paese. Grazie mille.